bimbe buongiorno bimbe ben arrivate all'ultimo giorno di scuola almeno per te vanessina ciao amore amo ultimo giorno amo ultimo giorno di scuola da domani si dorme si dorme signorina ehi buongiorno amore mio ultimo giorno di scuola sei contenta eh domani dormiamo tanto tanto insomma perché Anastasia continua all'asilo e quindi e quindi bisogna alzarci lo stesso no e come facciamo e lei va a scuola dom e allora non mando neanche lei no e allora ti devi alzare no e si e poi stiamo insieme tutta la mattina ti mando da papà e se papà va a lavorare vediamo dai poi ci organizziamo con lui ok adesso vai a prepararti che poi andiamo a scuola vabbè però anche se io dormo tanto quindi tu puoi portare la salla no non ti posso lasciare a casa da sola allora signorina mettiamo i vestiti che abbiamo scelto ieri sera ok io vado giù prepararti lo zaino con l'unico libro e quaderno che le maestre vogliono ti aspetto giù eh fai veloce ok eccoci qua amore Anastasia Vanessa è andata a scuola il suo ultimo giorno di scuola mentre tu ne avrai ancora qualcuno ok però sei contenta perché devi andare in gita vero amore non vuoi andare in gita non vuoi più andare vuoi stare con la mamma ma come no eri tanto felice ieri prendevi il pullman vabbè fa niente allora poi ci pensiamo cosa hai fatto perché sei così felice cos'hai appena scoperto che vengono stasera ma cosa ne hai ai baffetti marroni cosa stai mangiando ho finito ecco brava no togli il cucchiaino e chiudi sei felice mi raccomando ma smettila la felicità ti porta a sberle ascolta vieni qua non dire niente avane ma non dire proprio niente niente neanche quando arriva a casa dopo un'ora quando citofona smettila quando citofonano è una sorpresa no gli dico che è arrivato un pacco capito è arrivato un pacco va bene no perché noi abbiamo ordinato un caricatore che quello lì hanno no non so quello che vuoi ma non gli dobbiamo dire niente è una sorpresa appunto e basta ah gli dico che gli abbiamo regalato qualcosa allora è arrivato oggi però non possiamo dire cosa gli abbiamo regalato va bene e l'ho regalato questo Dani guarda che le prendi eh non mi muore buongiorno e bentornata ultimo giorno di scuola ha finito tutti che piangevano perché la maestra è andata in pensione ma dovete essere felici per lei allora mi raccomando tu devi stare in silenzio cosa? c'è una sorpresa per te a casa? cosa? a casa ci sarà una sorpresa per te tu non saprai e non saprai fino alla fine a casa? più tardi e adesso andiamo a fare un attimino un po' di spesa e poi andiamo a casa e a casa la cosa? la sorpresa? beh ce n'è una casa di cui tu non sei a conoscenza e poi ce ne sarà una più tardi ok? non sono a conoscenza no però magari se non ti mangio la bottiglia mentre parliamo com'è andata a scuola l'ultimo giorno? bene tutto bene? sì? era bene abbiamo visto che vi hanno fatto mangiare i mandarini le patatine quelli che ha portato ieri il papà di Nico all'oratorio alla festa va bene andiamo perché fa caldo devo fare un aperitivo quindi devo comprare qualcosa per l'aperitivo prendiamo un cestino? ce la fai tu a prenderlo? Ani devi stare zitta ma mi posso dire? no ce l'ho già a casa il prosciutto crudo fresco ho comprato ieri zitta ragazzi Vanessa mi sta stressando perché vuole sapere chi viene a cena stasera e io le ho detto che sono una famiglia con quattro maschi ma lei non mi crede scrivete nei commenti se vi ricordate chi vi ho detto che viene a cena mi sta stressando le ho detto che è una sorpresa ma quando a voi devono fare una sorpresa? voi continuate a chiedere cos'è cos'è chi è chi è cos'è cos'è chi è chi è? no perché altrimenti la sorpresa non riesce adesso la riporto a scuola e le faccio fare ancora un mesetto a scuola insieme a sua sorella no e allora basta tra poco vedremo chi sarà la sorpresa allora amore mi hanno appena scritto le persone misteriose che stanno per arrivare sei pronta a scoprire chi è? secondo te chi è? hai un'idea? chi? aspetta la soia chi? la statua della libertà brava brava hai indovinato sta arrivando la statua della libertà perché oggi è l'ultimo giorno di scuola e siamo liberi da questo impegno eccola qua il personaggio misterioso era Gaia ciao Gaia adesso mettiti vicino un attimo Vanessa secondo voi ragazzi scrivetemi nei commenti ma si assomigliano oppure la vedo solo io questa somiglianza atroce dai vediamo il balletto bravo bellissime va bene Van e Gaia il video finisce qua con te il video finisce qua iscrivetevi al canale attivate la campanella lasciate un like a questo video ciao al prossimo video ciao 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 allora Van e adesso Gaia è andata è ora di andare a dormire ti sei messa la magliettina per andare a dormire però io ho una sorpresa per te che non ti volevo dare prima perché avevo paura che magari Gaia si ingelosisse di questa super sorpresa che ti ho preso per la fine dell'anno scolastico tieni amore è proprio chiuso cioè si guarda rimarrai colpitissimo non lo rimettere dentro no fai vedere cosa non lo rimettere dentro hai visto come mi sono portata avanti no 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 devi fare devi fare vedere che cos'è smera ma no perché e ne manca ancora uno no devi fare vedere cos'è perché la gente non ha capito di che cosa si tratta dai oh il mio tutto vacanze 3 di matematica mi sono portata avantissimo hai visto amore dammi un occhio potrebbe essere interessante invece ci sono gli esercizi che dobbiamo iniziare a fare durante le vacanze estive sentiva che faccino triste ma dai sei felice adesso stasera andrei a dormire con una gioia in più amore guardala mamma mi piace di dirmi grazie non vedo l'ora di arrivare a questo pagina ah si sai quando ci arriverai a quella pagina il giorno prima che inizia la scuola vero eh forse vabbè dai eeeh mi sono portata un attimino avanti ti ho voluto fare questa sorpresona spero ti aspetta vabbè amore un secondo aspetta cos'è ecco il numero di pizze vendute nella pizzeria greco grano e farina la risolviamo? vogliamo iniziare a fare i compiti? allora allora vedete visto che brava allora quante pizze sono state vendute lunedì? tre quante giorni in cui sono state vendute meno pizze? martedì quante pizze sono state vendute sabato? uno due tre quattro cinque sei quante pizze sono state vendute in tutto la scorsa settimana? che sarebbe? tutta la settimana uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici due tre cinque quattro sei sette cinque cinque venti ventuno ventidue ventidue ventitre ventiquattro venticinque ventisei ventisei hai visto? rappresenti i dati della tabella come un diagramma fai attenzione alla legge va bene amore ascolta adesso non facciamo tutti i compiti in diretta ho fatto brava hai visto che se l'hai sotto mano ti viene anche voglia di utilizzarlo eh? va bene adesso avevamo già fatto i saluti prima con Gaia andiamo a dormire e ci vediamo al prossimo video ciao amore bravo ti meriti anche quello di tagliamo no sì ciao 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 ciao